Ciao a tutti, sono Sib, forse meglio conosciuto come Siberian89 e questa volta forzeremo le nostre creature ad evolvere in creature ad umana in più con portavoce Vannifar come nostro comandante. Di fresca stampa in fedeltà di Ravnica, portavoce Vannifar è una Mago Melma Elfo 2-4 per due mana generici, uno verde e uno blu, che si presenta con un'abilità spaventosamente forte. Al solo costo del suo tap e del sacrificio di un'altra creatura sotto il nostro controllo, potremo cercare nel nostro mazzo una creatura dal costo di mana convertito pari a uno in più rispetto a quella della nostra creatura sacrificata, e metterla direttamente in gioco. Nonostante sia attivabile solo a velocità stregoneria, ossia al nostro turno e a pila vuota, un'abilità del genere grida in tutti i modi Toolbox. Ah ok ok ok, ovviamente grida a combo, ma non vedo perché non divertirsi anche con un approccio diverso. Detto chiaro e tondo, Vannifar è a tutti gli effetti una capsula della Genesi con le gambe, sempre ammesso che le abbia le gambe, non è proprio chiaro, con addirittura un costo di attivazione più economico. Non vedo motivi però di non inserire anche la cara vecchia capsula nelle nostre 99 carte. Un minimo di ridondanza non ci dispiace mai, e di certo non sarà una carta che non vorremmo vedere. Ora, quello che vogliamo fare è riuscire a giocare Vannifar e attivare la sua abilità il prima possibile, e il più efficientemente possibile. Non possiamo quindi non giocare Eliser Millenario e situazioni favorevoli, così da velocizzare nettamente il nostro grande reparto creature con l'abilità da tap, mentre per poter stappare la nostra portavoce sono fantastici allarme anteintruso e bastone del morso spinato. Per velocizzare Vannifar vanno anche benissimo stivali piedelesto, mentre schinieri di fulmini sono abbastanza controversi. Quindi personalmente preferirei giocarli ugualmente e, al massimo, usarli solo in caso di urgente necessità di tappare una nostra creatura. Ora, avere in gioco allarme antiintruso e bastone dal morso spinato ci permette di fare quello che più ci aggrada, sacrificando e cercando fin tanto che ne avremo la possibilità. Ma cosa possiamo fare senza queste bombe in gioco? Iniziamo a vedere come abusare dell'abilità di Vannifar, partendo magari dall'approccio full combo. Giocando parecchie creature, soprattutto tra le fonti di mana, possiamo essere sicuri di avere diversi punti di partenza per la nostra catena di staff. Andiamo quindi in ordine. Abbiamo ad un mana Ranger di Quirion e Simbionte di Bosco Cavo, a due mana Ranger di Scrib, a tre mana Krasis Aggressivo, Esarca Ingannatore e Pulce Fastidiosa, a quattro mana, purtroppo solo in po' campo guizzante, a cinque mana Chakram Retriever e Discepola dell'Anello, e a sei mana Grande Quercia Guardiana e Ruggente dei Boschi. È importante notare che abbiamo un collo di bottiglia al costo quattro, dove il po' campo guizzante è la nostra unica opzione. Conviene tranquillamente prima di iniziare catene di tutori che magari non possiamo finire per un buco nei costi di mana. Ovviamente possiamo fermarci in qualsiasi punto di questa scalata al costo di mana più alto, soprattutto se la nostra intenzione è recuperare una creatura in particolare da mettere in gioco. Ma a volarla salire tutta, il nostro obiettivo è quello di trovare infine mole proteiforme, e il motivo è semplice. Se riuscissimo a sacrificare questa piccola bestiola, potremo andare facilmente in combo per turni infiniti. La combo funziona così. Una volta morta mole proteiforme, possiamo cercare nel nostro mazzo creature da mettere in gioco fino ad un totale di costo di mana convertito pari a 6. Quello che vogliamo trovare sono Ezuri Artiglio del Progresso, Saggio delle Ore e almeno altre 4 creature a costo 0 con forza pari inferiore a 2. Così da ottenere almeno 5 segnalini esperienza da Ezuri, entrare in fase di combattimento, mettere i segnalini più 1 più 1 con Ezuri su Saggio delle Ore e rimuoverli per giocare un turno adizionale. E via così fino alla vittoria. Il bello è che possiamo facilmente proteggerci prima di decidere di entrare in combo mettendo in gioco Dosan la foglia che cade o Teferi Mago di Zalfir. E che possiamo facilmente sacrificare mole proteiforme tramite Outlet di Sacrificio come Altare di Pirexia o Balot Famelico. A proposito di Balot Famelico e Altare di Pirexia, questi ci tornano utili per mettere in atto una seconda combo, questa volta richiedente un maggior numero di creature. Usando sempre queste due carte come motore di sacrificio possiamo sfruttare la combo tra Melira, Reietta, Silvok e Persistere di Kelpi al Pascolo per ottenere infiniti ingressi sul campo di battaglia e infiniti sacrifici, il che si traduce con infinite macine e con Occultista di Selow. Volendo lavorare su una versione meno orientata alle combo e più alla possibilità di rispondere in qualsiasi situazione possiamo tranquillamente pensare a modi meno immediati di stappare portavoce Vannifar, ma ripetibili, come Ritirata verso Elmo Corallino, Libero dalla realtà e Aura Pemmins. Lo so che stiamo parlando della Build Toolbox, ma proprio con Libero della realtà e Aura Pemmins va in combo la nuova Ingegnere del Cerchio per mano infinito, facilmente sfruttabile con Reclutatore della Guardia del Crepuscolo fino a trovare Balista Mobile per la vittoria. Messa da parte questa sfiziosa chicca, possiamo montare il nostro comparto creature utility a piacimento e in base alle nostre necessità. Ottimi candidati possono essere Melma Acida, Seminatrice di Tentazioni, L'immancabile Testimone Eterna e Tigre dai denti a sciavola Temur per rimbalzare e riusare proprio queste creature. Ma se una delle creature che stessimo cercando non fosse nel nostro mazzo? O se ci servisse recuperare una creatura già sacrificata? Per questo ci vengono in aiuto Tempesta Cerebrale e Aura della Saggezza Fluviale per rimettere nel mazzo le creature dalla nostra mano. Controfigura per copiarne una già nel cimitero e Sciamano Interratore e Lisir dell'Immortalità per rimischiare tutto il nostro cimitero. Volendo potremmo fare anche affidamento su Filo della Vita per riportare in gioco alla fine del turno tutte le creature che finiremo col sacrificare. Ammesso di averne almeno una in gioco. Per cercare di sfruttare al meglio l'abilità di Portavoce Vannifar possiamo anche giocare Anelli dell'Allegro Focolare e Bracciali dell'Illusionista così da tirare fuori dal nostro mazzo due creature al prezzo di una. Mentre Minamo, Scuola sul Bordo dell'Acqua e Tana di Bosco Cavo ci danno una mano nello staff di Vannifar senza occupare altri slot da dedicare alle creature. Infine, credo sia cosa buona e giusta ricordarsi che possiamo contare nella sezione Ramp anche Seguece di Chiora e Visir delle Sabbie Cadenti creature che possono stappare terre così come Vannifar e l'incredibilmente sinergico Cucifato che può anche tornare in gioco dal cimitero grazie a Disotterrare. Vi ricordo che, come al solito queste sono idee e spunti da cui partire e che in descrizione potete trovare due liste d'esempio basate su queste. Non vogliono essere affatto delle liste definitive e ogni vostra modifica contribuisce a rendere il vostro mazzo veramente vostro. Siamo quindi giunti alla fine del video e devo ringraziare Domenico Aceto e Angelo Tricase per la loro consulenza e tutti voi che state guardando questa deck tech. Sapete come funziona quindi non vi ripeterò le solite cose ma fatemi sapere se il video vi è piaciuto e quali comandanti vorreste vedere. Questa era Portavoce Vannifar io sono Sib e ci rivedremo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!